Allora ragazzi Da poco più di un minuto Italia-Bulgaria Prima partita dopo l'europeo triunfante In quel di Wembley Italia che passa in vantaggio Con un gol di Chiesa Bellissimo 1-2 con Immobile Chiesa che era partito dalla destra Si accentra per scaricare Alla punta della Lazio Che di prima Ridà a Chiesa Che con il sinistro Buca il portiere Alla sua sinistra Italia che Gioca un buon calcio Calcio offensivo Molto aggressivo Subito alla ricerca della palla Qualora si perdesse Tutti molto alti Però abbiamo preso un gol Verso la fine del primo tempo Che definire stupido È riduttivo Stavamo Tutti in avanti Poi Florenzi si è fatto saltare Come un pivello Bonucci sta sempre con le mani dietro Perché sta sempre con le mani dietro Questo non si sa E Acerbi stava molto distaccato Dal Dal Marcatore Nella Bulgaria Cosa che se ci fosse stato Chiellini Molto probabilmente Se lo sarebbe tenuto stretto E il gol Molto probabilmente A quest'ora Non l'avremmo preso Italia che poi Nel secondo tempo Si sperava Facesse di più Si sperava Facesse meglio Si sperava trovasse il gol Del 2 a 1 Che in qualche occasione Eppure Stato vicino Mi viene in mente Quello di Chiesa Che davanti al portiere Il portiere della Bulgaria Ha fatto una grande parata Poi nel primo tempo Mi viene in mente Insigne Che dopo un lancio di Bonucci Ha fatto uno stop Favoloso E E a tu per tu col portiere Quando si è trattato Di segnare Non è stato in grado Di mettere Il pallone In buca Italia che Tira Poco Da fuori Area Dovevamo sempre Arrivare Almeno al dischetto Per provare a tirare Immobile Quando aveva palla Perdeva sempre l'attimo Questo testimonia La mancanza Di gol E la mancanza Di Di una punta decente Di una punta decente Poi alla fine È entrato Raspatori Ma Non ne stiamo neanche a parlare Avrà toccato un pallone Un pallone e mezzo Se gli è andato bene Perdevamo molti palloni Davanti Alla porta avversaria Perdevamo tanti palloni E la Bulgaria Ripartiva in contropiede Uno di questi È stato quello del gol Dell'1-1 Se l'Italia Imparasse Un po' di più A tirare Da fuori area Molto probabilmente Vedremo più gol Vedremo Oggi abbiamo Battuto Mi sembra 10-11 calci d'angolo Possesso palla Del 70 71-72 Per cento Cioè I numeri Ci sono Ma il problema Nel calcio È che i numeri Non contano Il problema È che tu Nel calcio Devi fare gol E stasera Tu gol Non l'hai fatto Ne hai fatto uno Con Chiesa Su una bellissima azione Poi quando ti è ricapitato Altre due Tre volte Non siamo riusciti A capitalizzare Io poi Non ho capito Il cambio Di Cristante Perché ha messo Cristante Che oggi lui L'unica cosa Che voleva fare Era segnare E non certo Aiutare la squadra A trovare il gol Del vantaggio Era solamente Oggi Cristante È stato molto 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 Egoista Questo Italia che Ha deluso Oggi Perché l'Italia Oggi ha deluso Doveva vincere Ma d'altronde Diciamo che da una parte Diciamo che è anche Comprensibile Perché abbiamo Due gare di campionato Nelle gambe Abbiamo Storicamente Sempre sofferto Le gare Dopo La sosta estiva Abbiamo sempre Storicamente Sofferto Le gare Settembrine E quindi Diciamo che da una parte È anche comprensibile Ma Per come Hai giocato Stasera Di perdere Non te lo meritavi Proprio E se l'Italia Stasera Avesse tirato Un po' più Da fuori area Avesse sfruttato Un po' più Di occasioni Invece di stare a fare 200 tocchi Dentro l'area di rigore Molto probabilmente Un altro gol O altri due gol Stasera Li avresti fatti Ciao ragazzi Buona serata